a vedere adesso come funziona questa porta del personale allora vedo che molti detenuti passano di quasi per evitare il metal detector oggetti metal detector e mettiamo un altro anche qui è un altro anche qui questa porta mi fa perdere troppo tempo la smonto e metto una porta normale tanto qui c'è il cecchino se la rovogliano scappare quant'altro ok me l'ha montati adesso hanno bisogno di elettricità che subito gli diamo così ok allora questa è stata fatta forte mettiamo una delle porte personale si una porta personale qui strumenti condensatori perché non me li fai mettere ah no ma che ancora devi montare tutto questo è qua non me le devi montare cioè ancora non me le devi montare ma insomma hanno chiuso non sanno come entrare e non me le montano adesso vi faccio vedere come me le montano ecco si pareva se mi montate questa cosa qui risolviamo il problema ah questa c'è allora strumenti ho finito tutti i soldi potassi che con quest'altra riusciamo alimentare tutto il resto perché siamo deficit se mi montate prima i cavi che mi collegano all'altra parte mi fate una cortesia grazie ah finalmente e fortunatamente avevamo accendi anche questo ah non ne posso collegare due allora non ne posso collegare due quindi facciamo una cosa vediamo di dividere la cella c'è la parte a metà quindi facciamo così mantella strumento qua e qua dovrei così dividere i due impianti ah sa anche questo quindi anche questo ok questa parte qua al buio accendi quindi da qua questa zona qui c'è questo generatore qua quest'altra zona usa quest'altro generatore che è anche più potente essendo che ci ho potuto mettere tutti questi condensatori a fianco e mi alimenterà anche quest'altra parte qui penso che ce la farà tranquillamente quindi iniziamo su per giù in questo modo tendo dei cavi elettrici che così mi dovrebbero prendere un po' tutta la stanza allora questo visto che questo sarà il posto dove andranno solo i detenuti di massima sicurezza nel frattempo che ve lo dico assumo un altro cecchino andrà qui la vorrei strutturare in altro modo lì giù abbiamo il problema che i detenuti comunque vadano a finire dalla menta in cuscina e questo non mi piace quindi cosa vorrei fare vorrei farvi capire fare tipo la cucina qui centrale ok una cucina così chiusa e all'esterno altre stanze tipo magari anche così 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 ho fatto delle misure a caso no questa è una programmazione così fatta e qui fare le menze 1 2 3 4 così i detenuti vengono qui e non possono andare in cucina cioè loro stanno in questa stanza qua che la cucina è centrale se noi mettiamo in questo modo loro dicono vabbè io voglio entrare voglio fare prima capi passano di qua e vanno nella mensa ma qua non possono passare per la cucina perché la cucina sta al centro però è inutile fare una cosa così grande per magari queste celle qua così piccole quante celle ci potrebbero entrare qua non lo so proviamo a vedere un po meno male quante celle e una cosa buona e giusta sarebbe quella di fare le celle magari al centro e fare tutto il resto attorno perché se noi le facciamo vicino al muro le celle loro possono scappare molto molto semplicemente perché giustamente hanno più poco da scavare e subito scappano quindi io direi di farle su questo lato qui le celle dove abbiamo anche i cecchini anche qui magari poi ne metteremo un altro qua di cecchino e chiuderemo questa zona lo so ma vedremo però inizialmente di farle qua vediamo un po perché dobbiamo iniziare a fare le celle abbiamo pochi soldi iniziano a venire detenuti abbiamo altro credito per poter continuare a costruire altre cose allora così facendo abbiamo 15 celle se le moltiplico sopra ne avremo altre 15 o potremmo fare le celle migliorate dice diciamo una cella in cui i detenuti hanno un po tutto anche la doccia all'interno verrebbe un 5 per 6 giustamente ci entrerebbero meno di celle tipo così si si sarebbero 11 celle invece di 15 però hanno anche la doccia quindi non abbiamo bisogno di costruire un altro soffio c'è altre docce comuni volendo potremmo farlo questo potremmo fare una cosa del genere allora facciamo pure un attimo una cosa detenuti e gli arrivi blocchiamo un attimo gli arrivi chiusura perché poi dopo voglio far arrivare solo quelli di sicurezza massima questi qua ci danno 2000 sono bei soldi buco buco perquisisci blocco celle forza subito chissà dove arriverà questo tunnel adesso andremo a vedere ma no non arriva molto lontano allora io vorrei vedere se c'è un pavimento più duro no non c'è una differenza di pavimento cambia il colore queste cose qua bambù ma non c'è tipo un pavimento che costa di più però che più difficile da perforare ecco allora vediamo un po di portagli l'acqua allora io gli metterei tubo grandi ma fondi insufficienti ragazzi non possiamo portargli l'acqua mi spiace quindi iniziamo con i tubi piccolini da due almeno questo riusciamo a farlo e poi allunghiamo per le docce almeno queste possono essere considerate celle no facciamo così allo stanze cella così dovrebbe prendermi come celle adesso e mettiamo subito la logistica massima no massima più dai no non me la fa mettere qua no non me la fa mettere perché e stiamo rimanendo proprio a corto di soldi ragazzi raggiungi capienza togliamo sicurezza minima e togliamo sicurezza media apriamo la sicurezza massima massima più abbiamo bisogno di fondi arrivano questi quanti 19 detenuti in arrivo 18 di cui 18 di cui 18 di sicurezza massima arriviamo a 51 mila dollari è un detenuto in trasferimento con solo i detenuti in trasferimento che sono 15 mila dollari quindi troppo dovremmo aspettare che ci arrivino questi sono ancora senza senza acqua qui perché perché questo non ce la fa però adesso abbiamo qualcosina in più possiamo allungarci col tubo grande che io farei passare qua sopra sinceramente non sotto perché loro poi scavano perché non mi fa cambiare non lo so io volevo fare solo questa sicurezza massima ma se clicca non me la fa cambiare ma anche quelle vecchie vedi in logistica sicurezza massima se voglio mettere sicurezza massima solo qua non me la fa mettere perché perché non me la fa mettere dai ah ci sono 0 detenuti però perché dice che ci sono 0 detenuti ma se faccio sicurezza minima ci sono 55 detenuti però nemmeno me la fa mettere qui vedete mi vanno questo qua che normale io voglio che qui vadano solo questi ci sono 20 detenuti di sicurezza massima e voglio che vadano qua vabbè come non detto non lo so perché ma non me la fa mettere poi abbiamo anche le celle di lusso signori abbiamo le celle di lusso facciamo anche delle celle di lusso facciamo delle celle di lusso allora loro qua per rendere ancora più sicuro possono prendere seghe vanghe quant'altre unico metodo metal detector qui appena allora rientro se suona significa che hanno preso qualcosa del genere questo è appena arrivato e già sta facendo il gradasso di solamente 24 ore vai ecco qua abbiamo già le prime grane che ci stanno causando i detenuti di massima sicurezza benissimo 4 morti dove qua ma benissimo 5 morti dove qui sapevo che non era una cosa buona da fare prova bisogno di fondi facciamo una cosa e mettiamo altri armadietti così qua che sono sono armadietti giusto armadietto guardia noi possiamo assumere altre guardie ci metto altre armadietti anche qua posso assumere altre guardie armate e penso che ne avremo bisogno di altre guardie armate anche se è un'arma a doppio taglio l'arma la guardia armata perché perché il detenuto può rubarsi l'arma della guardia armata e quindi poi compiere una strage personale guardia armata ne possiamo avere 10 11 adesso che hanno montato anche l'altro armadietto ne mettiamo 11 iniziano già le prime perquisizioni ma benissimo allora mettiamo anche un bel meta detector qui togliamo questa pianificazione che avevo fatto giustamente alimentiamolo allora mettiamo qualche altra partuglia armata qui qualche altra partuglia armata qui e iniziamo a pattugliare anche questa zona qua anzi qua all'esterno allora stanno in arrivo tre morti dove qua di nuovo che fanno casino aspettate un attimo chiudiamo gli arrivi massimo sicurezza e trasferimenti e facciamo arrivare adesso solo quelli di sicurezza minima perché veramente stanno facendo troppi casini guardate qua che combinano cioè è ingestibile e meno male che aveva messo la la pattuglia qui armata che girava guardate da quanti di loro volevano scappare hanno fatto il tunnel loro poi pensavano di poter scappare così e anche lui sta facendo il tunnel ma per cui siamo tutti quanti le celle per cercare dei tunnel ah fortunatamente non c'erano altri tunnel allora cosa dovremmo continuare a fare che tacchio eh sono rivolte sotto rivolte usano i taser hanno ucciso di nuovo i cani vedete guardi i cinoflini non ne ho più me li uccidono una continuazione ne ho messi 8 adesso 8 con i cani quindi possiamo andare al mare che fanno un canotto vabbè lasciamo allora concentriamoci su quello che dobbiamo fare celle su celle quindi c'è la base è questa e io inizierei a fare altre celle qua queste qua basi allora mi rimane quest'altro spazio qui non so come sfruttarlo magari poi decideremo in seguito potremo fare una stanza di qualcosa un'altra lavanderia decideremo poi in ogni caso dobbiamo raggiungere 200 celle io direi che adesso che abbiamo avuto quei soldi con quelli di detenuti di massima massima sicurezza possiamo dedicarci solo a quelli di minima sicurezza poi se andremo di nuovo in deficit però poi dobbiamo prenderci eh sì quindi andremo ad attivare come sovvenzioni blocco di dobbiamo arrivare a 200 prigionieri vai vediamo anche un po cosa potremo sbloccare effettivamente questo ci sarebbe è un guadagno a lungo termine ne spendo 10.000 euro adesso per poi risparmiare sulle tasse che l'ho 10.000 euro si facciamola cioè questo qui aumenterà il flusso giornaliero sono arrivati detenuti c'è un bel flusso giornaliero in ogni caso quindi potrei anche assumere altre guardie ci sta in serviente ne ho sei giardinieri due ne assumo altri e medico 3 penso che bastino basta così ecco come mi ha dato l'elector qui funziona alla grande e poi voglio fare anche un'ultima cosa pattuglia bisogna anche pattugliare questa zona qui ci metto una pattuglia normale qui è una pattuglia cinofale qui così aprono le porte e stanno vicino al meta director bene ragazzi non so questo video se è stato già diviso in due perché comunque è lunghissimo però ci sono parecchie parti in cui aspetto che finiscono di costruire quindi voi da sei pure che verrà in un unico video in ogni caso io vi saluto qui vi ringrazio come sempre per la visualizzazione se avete consigli su come strutturare ancora meglio queste celle e del perché non mi fa dividere queste che voglio farle diventare solo sicurezza massima prima me lo faceva adesso nessun'altra parte me lo fa non lo so sarà perché ho messo qualcosa del genere sicurezza massima per esempio non è proprio configurata boh non ho idea ragazzi non ho idea del perché mi faccia più modificare queste cose se sapete come farlo me lo potete scrivere nei commenti e che dirvi da Zerch è tutto vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video un video come sempre ad iscrivervi al canale telegram che trovate sotto in descrizione per avere anche qualche anteprima qualche video prima che uscirà sul canale e da Zerch è tutto ci vediamo in un prossimo episodio di Prision Zero ciao ragazzi ciao 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 ciao